Amici, mi avete fatto il regalo di compleanno, anche se è meglio che non vi dicano, ve lo dico lo stesso quanti anni compio, 79 domani. Grazie a voi e al vostro aiuto, sono ancora in tricea, spero di esserlo ancora almeno fino al completamento dell'ospedale e la riapertura delle scuole. La situazione va molto meglio, ma è ancora molto, molto difficile. Stiamo aspettando il ritorno dei nostri ragazzi della seconda media in su che sono stati chiamati a combattere e speriamo che tornino molti, speriamo tutti, pronti a riprendere la vita che gli è stata interrotta. Comunque il fatto che io possa tornare già la settimana prossima e non torno neanche a mani vuote, anche perché voi state facendo delle offerte per il mio 79esimo compleanno. Quindi servirà anche per curare loro, per aiutarli a riprendere la scuola, gli studi, a ricominciare a vivere come ogni ragazzo avrebbe diritto di vivere. Grazie per essere quello che siete e continuate a aiutarci, per favore. Grazie.